Parlando di liberazione dell'Umbria dal nazifascismo, è appena finita la prima settimana di giugno del 1944, quando tutto inizia, e l'elemento che per primo risalta è senza dubbio la dilatazione nei tempi. In teoria è inspiegabile, tenendo conto della limitata estensione territoriale della regione e di un fronte che è tornato a muoversi dopo la stasi sulla linea Gustave prima che si concretizzi la successiva sulla Gotica. Le ragioni di questa lunga liberazione vanno rivedute in primo luogo nelle capacità della Wehrmacht di ottemperare il piano strategico di ritirata aggressiva, funzionale appunto al consolidamento sulla Gotica, sfruttando anche di tubanzi e errori di valutazione da parte degli alleati, oltre che le caratteristiche morfologiche del terreno su cui avanzano e l'ubicazione delle principali arterie stradali umbre. Quanto all'atteggiamento tenuto dagli alleati durante l'avanzata, è stata sempre sottolineata in maniera critica una condotta fin troppo prudente, mirata più al contenimento delle perlite che alla rapidità nell'avanzata. Non dimenticando che in quel momento l'organizzazione dello sbarco in Provenza stava sottraendo reparti allo scacchiere italiano. È stato detto dalla più recente storografia come proprio una settimana circa che intercorre fra la liberazione di Roma e l'ingresso in territorio umbro, i comandi della Quinta Armata statunitense e della Ottava Britannica abbiano commesso certi errori tattici che hanno favorito un miglior posizionamento della Wehrmacht in questa parte del settore. Per tutta questa serie di ragioni ne deriva un lungo susseguirsi di piccoli scontri, di scambi di artiglierie, di bombardamenti prima che l'assestamento avvenga sulla linea del lago che dal mare Tirreno arriva fino al lago Trassimeno, quindi la linea Albert, dove si combatte per tutta la metà di giugno, la seconda metà di giugno e con centinaia di vittime da ambo le parti. Questa che si combatte a Trassimeno non è soltanto una battaglia forse troppo a lungo dimenticata o comunque tenuta in secondo piano, ma anche un sacrificio sostanzialmente inutile, anche per un ingente numero di civili. Secondo alcuni studi non vi furono infatti né vincitori né vinti, ma dopo un paio di settimane di scontri la Wehrmacht decise di abbandonare questa posizione perché avendo subito alcuni roversi sulla fascia tirrenica, rimanendo qui avrebbe corso il concetto rischio di vedersi accerchiata una intera armata. Certo è che anche in questo frangente avvenuto in territorio umbro ha colto l'obiettivo di rallentare l'avanzata anglo-americana. Una lunga liberazione quindi che vale alla metà di giugno fino a buona parte del mese di agosto, considerando anche in molte occasioni i più giorni che possono intercorrere fra la partenza dei tedeschi e l'arrivo degli alleati, giorni in cui generalmente le forze partigiane cercano di riassumere il controllo della situazione. Situazione che appunto comporta per la popolazione il protrarsi per più giorni di una condizione senza dubbio fuori dall'ordinario. Tracciando un percorso delle principali tappe della liberazione in Umbria si va dal 10 giugno a Orvieto, 13 giugno Terni, 15-16 giugno Foligno Spoleto, 20 giugno Perugia, quindi vediamo come nella prima fase è relativamente rapida, Città di Castello, che è la parte settentrionale della regione, viene liberata il 22 di luglio e l'ultimo civile morto in territorio umbro per mano tedesca cade il 17 di agosto, è chiaro che siamo una settimana dopo l'ingresso degli alleati a Firenze. Queste reiterate durature sostene l'avanzata delle gruppe angloamericane creano innanzitutto le condizioni per una drammatica persistenza delle incursioni aeree alleate che da aprile erano tornate ad essere massicce e non avevano più a quel punto risparmiato nessun angolo della regione. Per quello che riguarda le vittime complessive quanto la provincia di Perugia abbiamo un dato di almeno 350, mentre per il Ternano le cifre sono estremamente più elevate e distribuite su circa 160 incursioni dall'11 agosto 1943 fino alla prima decada di giugno del 1944. Per avere un'idea delle vittime fatte a Terni in provincia dai bombardamenti basti pensare che solo il primo bombardamento che colpisce Terni l'11 agosto del 1943 fa 500 vittime immediatamente accertate, altrettanti sono quelli considerati dispersi, feriti o dispersi e nella maggior parte dei casi poi rinvenuti o comunque considerati morti. Questa come la gran parte delle incursioni aeree su Terni avrebbe risparmiato gran parte del patrimonio industriale della città ma avrebbe sostanzialmente azzerato il patrimonio edilizio civile e infrastrutturale. Il dramma per i civili quindi non è dato soltanto però dai rischi che precedono e accompagnano il passaggio delle fronte ma anche dell'ulteriore inasprimento dell'atteggiamento tedesco nei loro confronti. Per i tedeschi naturalmente alla ragionevole convinzione già maturata da qualche settimana a quel punto dell'impossibilità di estrippare il fenomeno partigiano ci avevano provato in primavera con le grandi operazioni contro le bande e si uniscono ora le esigenze del ripiegamento con l'estensione a queste terre e l'esclusiva giurisdizione da parte delle forze combattenti e con tutto ciò che comporta nei confronti dei civili. Si tenga conto che il celeberrimo ordine di Kesselring interviene proprio nel momento in cui siamo a metà giugno in cui gli alleati sono a circa metà della loro risalita dell'Umbria. È uno stilicidio come altrove in corrispondenza del fronte di violenze isolate, cidi numericamente contenuti quanto alle vittime, quasi sempre per motivi anche futili e accidentali, che si protrae per tutto giugno e per buona parte di luglio come detto in precedenza, a cui si affiancano però anche stragi numericamente consistenti. L'esempio maggiore è la fucilazione di 40 civili a dubbio il 22 giugno, dopo che due giorni prima era stato effettuato un attentato dalle forze partigiane cittadine contro due ufficiali del tedeschi, uno morto, uno soltanto ferito. L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, per darvi un dato complessivo, ha censito per tutto il periodo successivo all'8 settembre un totale di 181 episodi nelle province di Perugia e Terni e con un totale di 479 vittime. E questo è il contesto naturalmente in cui si consuma anche l'ultimo atto della Repubblica Sociale in Umbria, con le autorità civili e militari che abbandonano più o meno precipitosamente la scena. Non sono ancora del tutto chiare le dimensioni numeriche di questo dissolvimento che, come è avvenuto dappertutto nell'Italia centrale, può coinvolgere almeno interi nuclei familiari. Non solo ai livelli più alti si tenta e realizza la fuga, in buona parte dei casi, la fuga al nord. Non disdegnando l'accaperramento anche di ingenti somme di denaro e bottini vari. È una fuga, un richiegamento, come dicevano i fascisti repubblicani, che coinvolge anche cittadini di livello non così alto a livello politico e amministrativo. Un consistente numero di fascisti perugini si ritrova e riorganizza a Novara sotto l'egida di Armando Rocchi, capo della provincia di Perugia, per poi di nuovo disperdersi in varie realtà del nord. Un buon numero di erarchi pernani invece si rifugia in un'area tra il Veneto, la Lombardia e l'Emilia, prendendo poi a quel momento parte attiva ai crimini delle brigate nere che andavano in quel momento formandosi. Si tenga conto anche che le considerazioni che ho fatto per Terni e Perugia sono estendibili anche alla confinante provincia di Rieti. Certo la figura di Rocchi, capo della provincia di Perugia, dall'ottobre del 1943 meriterebbe un ampio spazio, ma basti per questa occasione ricordare che subito dopo l'abbandono di Perugia viene nominato capo del quartier generale del Ministero dell'Interno e soprattutto da fine agosto 1944 fino alla liberazione divenne commissario straordinario del governo per l'Emilia Romagna. La sua vicenda finirà a ridosso del 25 aprile quando si consegnerà a un comando partigiano nei pressi di Pavia. Se a Terni la dispersione, quindi la scarsa efficacia delle autorità, è in realtà un dato di fatto ormai da tempo per via dei bombardamenti, a Perugia il capo della provincia marca in realtà la sua presenza in maniera significativa quasi fino all'ultimo perché è accertata la sua presenza fino al primo pomeriggio del 16 giugno. Pochi giorni prima di andarsene ordina la scarcerazione di un centinaio circa di detenuti in attesa di giudizio da parte del Tribunale Militare, compresi anche altri che erano detenuti per reati comuni ma in virtù, in base alla legislazione vigente, avrebbero potuto beneficiare della libertà condizionata. In questo modo in realtà diversi antifascisti in carcere da mesi, già dall'autunno precedente, hanno la possibilità di tornare in azione nell'Umbria centrosettentrionale non ancora liberata a quel punto, proprio a pochi giorni della liberazione. Questo suo atto è comunque preceduto dall'ennesimo e secrando delitto, compiuto il 10 giugno, sarà l'ultimo delitto fra quelli commessi in Umbria di cui poi sarebbe stato nel dopoguerra chiamato a rispondere. E quel giorno, con la collaborazione pratica di alcuni suoi fedelissimi e di uomini della GNR di Perugia, della 102esima legione GNR di Perugia, fa prelevare dalla cella il giovane partigiano sloveno Marian Tomsic, già internato in precedenza fino all'8 settembre come internato civile in Umbria, che era in carcere da febbraio perché ritenuto, presunto reo confesso, responsabile dell'uccisione di due sacerdoti che Rocchi ricordava come fascisti repubblicani e di altri due fascisti. Tomsic viene preso brutalmente dal carcere, scavalcando anche l'autorità del direttore del carcere e immediatamente fucilato al cimitero di Perugia. Dal 16 giugno non si ha più quindi alcuna traccia delle principali autorità fasciste repubblicane a Perugia, ma in realtà i suoi abitanti e i concittadini avrebbero dovuto attendere ancora quattro giorni prima di vedere sbucare dai giardini del frontone in Borgo 20 giugno. Nella tarda mattinata gli uomini e diversi erano anche indiani dell'ottava armata britannica. La data e il luogo in realtà rappresentano una di quelle straordinarie coincidenze che a volte la storia riserva, sotto forma in questo caso di un anelito di libertà, diciamo, che si ripropone a quasi un secolo di distanza. Infatti su quella stessa strada, 85 anni prima, il 20 giugno 1859, l'insurrezione popolare contro il dispotismo di un ormai morente stato pontificio era stata stroncata nel sangue dalle truppe svizzere, dai miocenari assoldati da Pio IX. Quindi la data simbolica del risorgimento per la città di Perugia trova una sua seconda consacrazione con la liberazione dal nazifascismo. In realtà sempre lungo la medesima via, poco prima di attraversare Porta San Pietro, gli inglesi quella mattina incontrarono un altro luogo simbolo di martirio e libertà per Perugia, stavolta strettamente legato alla Seconda Guerra Mondiale della Resistenza, ossia il poligono di tiro. Lì pochi paio di mesi prima, l'8 e il 17 marzo, erano stati fucilati 9 partigiani, tra cui Mario Grecchi, non aveva ancora compiuto 18 anni e sarebbe stato poi insignito di medaglia d'oro al valore militare. Quello stesso punto, dal 20 giugno del 1945, ecco che ritorna questa data, una lapide dai toni anche molto perentori ricorda questa esecuzione e lì, dall'anno successivo, dal 25 aprile 1946, il comune di Perugia concentra la fase più solenne delle celebrazioni per la liberazione del nazifascismo. In questo clima si colloca naturalmente anche la conclusione dell'esperienza resistenziale in Umbria e è forse questo il momento, più di tutti i precedenti mesi, in cui la resistenza Umbria risente di una determinante di fondo che, pur non intaccandone assolutamente la portata storica, la rifinisceva sempre debitamente considerata. La liberazione interviene infatti in Umbria 9-10 mesi prima rispetto al resto dell'Italia centrosettentrionale. Nel momento in cui le forze partigiane di quei territori si apprestano appunto a compiere l'ulteriore definitivo salto di qualità e se relativamente al primo semestre del 1944, anche per via del progressivo avvicinamento del fronte con tutto ciò che comporta, le forze partigiane Umbre anticipano sotto vari punti di vista una maturazione sia quantitativa che qualitativa, che altrove nel centro nord può essersi manifestata in tempi più lunghi. Nonostante ciò, nei giorni cruciali, quelli che precedono la liberazione di queste terre, non si riesce, specialmente nel capoluogo regionale, a creare quella saldatura fra le formazioni alla macchia e i nuclei di antifascisti rimasti o riformati nelle città, ossia quella situazione che avrebbe permesso di presentarsi in maniera diversa agli alleati. Su questo influiscono senza dubbio i particolarismi tipici di questa regione, ma non solo di questa regione, sebbene giustificabili a quel punto anche con la legittima aspirazione da parte dei vari comandi partigiani di curare la liberazione di quei territori specifici dove avevano combattuto sin dall'autunno precedente. Pensa soprattutto anche la realtà dei comitati di liberazione, CLN locali che generalmente qui ricompaiono sulla scena solo quasi a giochi fatti e nei centri medio-piccoli della regione non prendono forma se non con il passaggio del fronte o addirittura nei giorni successivi. Tenendo conto di alcune doverose eccezioni, per esempio Foligno e Città di Castello dove un CLN opera in clandestinità continuativamente per tutto il periodo, il caso più eclatante, diciamo, in senso negativo è quello del CLN provinciale di Perugia. Non vi sarà mai un CLN regionale in Umbria. Questo comitato che da febbraio 1944 era tornato a riunirsi solo a fine maggio non riesce a stabilire un legame con le forze partigiane della provincia e come dimostra in primo luogo il tentativo vano di convincere i comandi della Brigata San Faustino Proletaria d'Urto, operante in Alta Valle del Tevere, dove erano stati mandati appositi emissari, a marciare sul capoluogo per entrarvi prima degli alleati. Per di più nell'imminenza della liberazione, il CLN di Perugia non riesce nemmeno, anche non soltanto per sua colpa, chiaramente a coordinare quei piccoli gruppi rimasti in città, riformati in città, per mantenere gli impegni presi con una missione alleata dell'Ottava Armata Britannica, avvenuta un paio di settimane prima, intesa appunto a salvaguardare alcuni impianti e infrastrutture che invece vengono quasi per intero danneggiate e rese inservibili dai guastatori tedeschi. La mattina del 20 giugno si registrano a Perugia solo alcune scaramucce piccole sparatorie, ma senza dubbio al CLN perugino va attribuito il merito di avere dopo una lunga e non sempre semplice valutazione interna, optato per non far intervenire militarmente, in senso proprio queste forze armate cittadine contro i tedeschi in ritirata, scongiurando senza dubbio un sacrificio a quel punto inutile di giovani che erano indubbiamente poco e male armati e scongiurando anche maggiori distruzioni alla città. Di fatto comunque la realtà è quella che l'AMG ha così campo libero per impostare la ripresa della vita democratica, almeno a Perugia, secondo i canoni più confacenti alla propria linea, alla propria mentalità, immarginando perciò tutte quelle forze che più di altre avevano mantenuto in vita l'antifascismo nei mesi e anche negli anni precedenti. In parte è diverso il caso di Terni perché qui la federazione comunista, insieme al comando della Brigata Gramsci di cui era stata ed era una diretta emanazione, Brigata Gramsci che è senza dubbio una delle più importanti di tutta la resistenza in Italia centrale, decide anche di istituire un comitato comunale con il compito di gestire la situazione prima dell'arrivo degli alleati. Ciò avviene in una città, come ho già detto, più che semidistrutta e soprattutto abbandonata perché quando gli alleati arriveranno la mattina del 13 giugno troveranno poco meno di 2000 persone. Il coronamento di questo sogno di liberazione e il pullato per mesi riserva tuttavia ai partigiani, almeno questa è la realtà perugina e Umbra, perugina ternana e Umbra in generale, un brusco risveglio perché alla gioia e agli onori da subito tributati ai caduti, anche da parte degli alleati, si affianca una netta e in non pochi casi ostile presa di posizione nei loro confronti. Un prelurio ad atteggiamento in realtà già si era potuto riscontrare, lo sappiamo oggi chiaramente non si sapeva allora, da alcuni rapporti segreti del quartier generale dell'ottava armata risalenti a due settimane prima dell'arrivo a Perugia, in cui venivano manifestati timori sulla base di un'esperienza pur scarsa, maturata già a sud di Roma, per l'incontro con i partigiani e in particolare per la presenza, che qui era significativa, di russi e soprattutto di Jugoslavi. L'ordine di smobilitazione è pressoché immediato, salvo qualche caso in cui viene lasciato ad alcune formazioni partigiane, viene lasciata la gestione dell'ordine pubblico cittadino per un paio di settimane al massimo, segue poi un decisamente drastico disarmo per rentorio sbrigativo nei modi e molto è rimasto tale nelle memorie dei partigiani sia locali che Jugoslavi. È una rapida disillusione, senza dubbio, una diffusa sensazione di vedere quantomeno sottovalutati se non vanificati i sacrifici fatti che però non sfocia in Umbria in disordine sopprusi né contro le truppe alleate né soprattutto, questo è indubbiamente un titolo di merito contro quelli che erano stati i nemici. Ma sfoce innanzitutto nella volontà di continuare questa lotta di liberazione ed è così che tra il dicembre del 1944 e il gennaio del 1945 oltre 500 Umbri, più della metà dei quali provenienti dalla provincia da Terni e dalla sua provincia si arruolano nel gruppo di combattimento Cremona. Questi che ho rapidamente ricordato adesso sono solo alcuni degli elementi della lenta ripresa dopo questa lunga liberazione che è caratterizzata qui come altrove anche da disagi che sono sembrati insormontabili a partire dalla duratura assenza anche dei servizi essenziali e sarà per questo che avendo avuto la fortuna per anni di ascoltare i anziani testimoni di quei mesi a prescindere che fossero stati o meno partigiani, memori delle tante privazioni continuate a patire per mesi se non per anni successivamente alla liberazione di radio si sentiva da loro utilizzare la parola liberazione. Era più facile che dicessero passaggio del fronte o quando è passata la guerra o quando sono arrivati in inglese. Buon 25 aprile.